Quanta fretta ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società Di noi ti puoi fidare Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi tuoi I migliori in questo campo siamo noi È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai Che non ti perderai